Un milione di dosi di vaccino anti-covid in 200 giorni nel territorio dell'Ulss 6 Euganea. Ciclo completo per 434.000 padovani, il 52%, altri 141.000 sono quelli prossimi a ricevere il richiamo e 36.000 con appuntamento per la prima dose già prenotato. La milionesima dose nella giornata di giovedì. Un grande risultato, ha commentato il direttore generale dell'Ulss 6, ma anche una grande speranza. Avanti tutta, perché abbiamo ancora circa 270.000 persone da vaccinare, dobbiamo riuscire appunto a vaccinare il più possibile per passare comunque dopo arrivare un autunno tranquillo e sereno con una ripresa comunque di tutte le attività. Dietro a questo risultato c'è una grande macchina organizzativa, oltre a quella sanitaria, ricorda Fortuna. Davanti c'è invece la speranza di arrivare presto e immunizzare tutta la popolazione in età da vaccino anti-covid. Abbiamo molti posti ancora liberi, quindi prenotatevi, ci sono appunto gli operatori, gli operatori che sono l'anima pulsante di questa macchina, li ricordo appunto un grande ringraziamento. Un risultato ottenuto anche grazie ai punti vaccinali dell'azienda ospedaliera, di medici con l'Africa QAM e dell'ex ospedale militare. Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche di QTSS Grazie a tutti